Il peggio è alle spalle e quest'anno il mercato pubblicitario chiuderà in pareggio. E' questa in sintesi l'opinione espressa dal presidente Lorenzo Sassoli De Bianchi nel corso dell'Assemblea dell'UPA, l'associazione che riunisce le più importanti aziende che investono in pubblicità e comunicazione. Il primo semestre dell'anno si chiude con un meno 2%, ma Sassoli si dice fiducioso che dopo sei anni di segni meno si possa finalmente dire che l'emorragia si è arrestata. I segnali confortanti sono molteplici e convergenti. Da una parte la fiducia degli italiani, mai così alta dal 2010, e il rallentamento del calo dei consumi. Dall'altra il miglioramento sia degli investimenti pubblicitari sia del risparmio degli italiani anche grazie agli 80 euro in più in busta paga. Tra i settori che trainano la ripartenza c'è qualche sorpresa. L'argo consumo, l'alimentare, l'automobile, la finanza, per esempio, la finanza è tornata ad investire. Le telecomunicazioni invece sono un pochino in recessione, ma probabilmente perché hanno investito molto, molto negli anni passati. Nel corso dell'assemblea, che ha visto tra i relatori anche Lorenzo Binismaghi, presidente Snam, Sassoli ha ribadito l'assoluta rilevanza economica di una tax credit sul valore incrementale degli investimenti pubblicitari, in modo da favorire una delle leve più incidenti per la ripartenza dei consumi. Per il presidente fondamentali saranno gli investimenti delle multinazionali che torneranno a credere nel nostro paese, perché, chi avrà il coraggio di investire e non si farà condizionare dal momento, otterrà un grande vantaggio sui concorrenti. Se noi quest'anno, come io mi auguro e prevedo, chiuderemo con lo zero, che è un punto di partenza, io penso che dall'anno prossimo potremo vedere dei segni positivi, non segni positivi, diciamo, strabilianti, ma se noi nel 15 chiudessimo con un più 2%, vuol dire che siamo fuori dalla crisi e che l'economia è ripartita. Claudio Calì, Sky TG24